Finale del Best in Show, raggruppamento numero 10, raggruppamento Levrieri. Accogliamo con un applauso il giudice, arriva dall'Uruguay, Jorgen Nallem. Levrier afgano. Greyhound. Afagan Hound, Greyhound. Azawak. Saluki. Slugi. Whippet. E piccolo Levrieri Italiano. Tra pochissimi istanti la finalissima, quindi pregherei tutti i migliori del loro raggruppamento, quindi i vincitori dei nove raggruppamenti precedenti nel pre-ring. Orgen Nallem is coming from Uruguay, is a famous breeder with the prefix Ritorno, together with Adrian Landarte, and the specialist of this side-hound group, is breeding Greyhound and Whippet. Intanto ne approfitto per salutare coloro che sono a casa e ci stanno vedendo in diretta, in quanto queste due manifestazioni li potranno essere seguite comodamente da casa sul sito Animal News, che sta riprendendo in diretta. Quindi un saluto a tutti quelli che sono a casa e che stanno vivendo con noi questa giornata espositiva. Intanto che continua la sfilata di questi migliori soggetti per quanto riguarda le razze Levrieri, volevo ringraziare ancora a nome del gruppo cinofilo organizzatore tutti i giudici che sono intervenuti oggi e che rivedremo anche domani per la seconda giornata espositiva. le due relegate dell'Enci, la signora Titti Ceccarelli e la signora Barbara Zagneri-Corsini, che sono state con noi oggi e lo saranno anche domani, per controllare che tutto venga svolto secondo i regolamenti previsti per queste manifestazioni. La Royal Canine, sponsor ufficiale di questa manifestazione, tutti gli stendisti e gli altri sponsor che sono intervenuti e tutti coloro ovviamente che lavorano prima, durante e dopo per l'organizzazione di queste manifestazioni. Quindi a tutti un ringraziamento particolare, un grande applauso, a una rivederci naturalmente a domani per la seconda giornata espositiva. Intanto spero che si stiano preparando nel pre-ring i vincitori dei precedenti raggruppamenti a cui tra pochissimi istanti si andrà ad aggiungere il miglior soggetto per quanto riguarda questo raggruppamento Levrieri. Questo è l'ultimo gruppo e poi dopo questo troviamo i 10 finalisti di questa giornata. Quindi credo che in probabilmente 15-20 minuti avremo il vincitore del giorno di questa giornata internazionale organizzata dal gruppo cinofilo Capitolino. Scitolino 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 Scitola Scitolino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.